Ciao, io sono Mirko del canale Aikidrome, ti do il benvenuto e ti mostro alcune ripresse che ho effettuato qui ad Alcamo per poter ammirare il castello che si trova qui ad Alcamo e tutto ciò che sono le zone limitrofe. Buona visione! Alcamo si trova in Sicilia ed è in provincia di Trapani. Il castello dei Conti di Modica. 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 Spero che il video ti sia piaciuto metti un bel like iscriviti sul canale e ci vediamo nei prossimi video ciao e alla prossima